Medel Connect Cardio MB10, prodotto dalla Medel International, è un misuratore di pressione da braccio con funzione ECG, che consente di misurare e monitorare in modo non invasivo i valori della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco. È dotato di uno stick ECG, cioè un elettrocardiografo ad un canale pensato per l'autodiagnosi, che consente di monitorare l'attività cardiaca e produrre un tracciato dell'elettrocardiogramma in un intervallo di 30 secondi. Questo tracciato registrato può essere scaricato e controllato tramite le app IPB Monitor e software. L'esecuzione della misurazione ECG può avvenire in tre modi diversi. È consigliabile registrare le proprie curve ECG e sottoporli al proprio medico curante, soprattutto nel caso in cui nei messaggi di stato dell'apparecchio non compaia il simbolo OK. Tutti i dati registrati possono essere visualizzati e stampati sia dal paziente che dal medico curante. Grazie. Grazie.